For World, attraverso questi incontri e attraverso anche la rivista, sulla base di parole chiave, l'innovazione, la precision medicine, gli assetti organizzativi gestionali, mi sembra che sia un laboratorio assolutamente rilevante per, diciamo, complessivamente la cultura del paese, perché mette insieme le diverse culture, mette insieme i diversi stakeholders, i differenti livelli di responsabilità per creare dei momenti di pensiero e di ascolto, e non tanto per dare delle soluzioni, e quindi tiene vivo il dibattito, l'interdisciplinarietà per accompagnare il processo di cambiamento in corso. Mi sembra importante che riintrodurre nella cultura della medicina la dialettica esplicita, una contrapposizione che permetta non un talk show, ma che permetta effettivamente una contrapposizione in maniera tale da non accettare le parole date come se fossero quelle dovute, mi pare che sia un contributo importante e spero che questo possa far arrivare le conseguenze alla formazione reale di tutti gli operatori sanitari, oltre che possibilmente a quelli che invece parlano della sanità nei media mainstream, che invece danno un'idea che il futuro o è tutto in salita o è tutto in discesa, ma non è mai qualcosa nel quale noi possiamo prendere parola. La salute che è più grande della sanità e la sanità più grande della medicina sono interdisciplinari per natura, però apprezzo anche il modello organizzativo con pochi relatori se vogliamo, quindi poi l'interscambio culturale al di là dei temi che sono tutti di grande attualità. Adoro Forward per vari motivi, uno di questi è che è il punto d'incontro di discipline diverse e di esperienze diverse. Il motore dell'innovazione è sempre la curiosità, l'esplorazione di cose che non si sanno e la contaminazione da parte di altre persone che fanno mestieri diversi. Mille volte capita che una persona che non ha esperienza a proposito di un particolare problema trova delle soluzioni impreviste proprio perché è un esterno. Penso che il bello, la cosa interessante di questa giornata sia proprio l'interdisciplinarietà. La pratica del medico che agisce da solo davanti al suo paziente è un'idea romantica che non esiste più. Il paziente entra in un ambito che ha degli aspetti organizzativi, che ha degli aspetti tecnici, che ha degli aspetti di collaborazione tra professionisti che una volta erano molto meno marcati e quindi anche per fare dei passi in avanti bisogna incontrarsi, bisogna collaborare. Credo che questo sia l'aspetto bello, innovatore, importante di una giornata come questa oltre poi alla qualità dei relatori che ovviamente aggiunge sempre ed è stata assolutamente gradita. Io ho sempre guardato ovviamente per vari motivi con grande simpatia a questa iniziativa, adesso ne vorrei anche cogliere il significato come strumento che accompagna, approfondisce, favorisce il processo di cambiamento della sanità in corso. Non soltanto è possibile ma è necessario avere un progetto per guardare avanti. Abbiamo tutti imparato tante cose. Questa è la ricchezza di Forward e spero che continui a lungo perché mi diverto. Grazie a tutti.